Richard Mill Lifestyle, passione, innovazione e stile. Questa mesona ha visto la luce nel 1999, grazie all'ingegno di Richard Mill, che aveva precedentemente dedicato molti anni al settore dell'orologeria e della gioielleria di alta gamma. La collezione Richard Mill Lifestyle comprende una vasta gamma di modelli. Ecco quelli più rappresentativi della collezione Lifestyle di Richard Mill. 1. RM011 Yellow Flash Richard Mill è un simbolo di lusso e stile, e il modello RM011 Yellow Flash è l'esempio perfetto di questa filosofia. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo un cronografo con funzione flyback, un movimento automatico RM011, e un calendario annuale. Il quadrante è caratterizzato da indici e lancette luminescenti con superluminova bianca, sfere cronografiche e una scala tachimetrica sul reo nero, ravvivata da dettagli gialli. 2. RM72-01 L'RM72-01 è un cronografo automatico con funzione flyback e cassa a tono. La vera innovazione si trova all'interno dell'orologio. L'RM72-01 monta un calibro CRMC1, completamente prodotto internamente dalla Maison. Nonostante l'introduzione di un calibro cronografico di manifattura sia una novità significativa per Richard Mill, è importante notare che la parola chiave all'interno del nome dell'orologio è «lifestyle». Questo suggerisce chiaramente il tipo di cliente a cui si rivolge. Non si tratta dei soliti appassionati di sport che amano i materiali leggeri e il design estremo, ma di coloro che desiderano un orologio che si adatti a una vasta gamma di occasioni senza apparire ingombrante. 3. RM74-01 L'RM74-01 presenta una cassa a tono realizzata con la massima attenzione ai dettagli e materiali innovativi come il Carbon TPT o il Gold Carbon TPT. Questo orologio si distingue per l'introduzione di una nuova versione del calibro automatico Tourbillon. La sua estetica affascinante è sottolineata da un movimento ultrascheletrato che cattura immediatamente l'attenzione. 4. RM67-01 L'RM67-01 è un orologio automatico notevole per la sua struttura estremamente sottile ed è indirizzato a una clientela di nicchia particolarmente esigente che cerca un orologio fuori dal comune. Sul quadrante sono presenti indicatori di funzione, ore, minuti e data. La riserva di carica è di circa 50 ore. La collezione Richard Mille Lifestyle è caratterizzata da un design e una vestibilità che rendono questi orologi perfetti per ogni occasione.